Se amate il gusto creativo contraddistinto però da una personalità forte e originale, il restyling di questa abitazione vi farà suscitare sicuramente tante belle idee e proposte per la vostra dimora. Frutto di una recente ristrutturazione a cura di Vmaison, questo rifugio domestico si trova sulla costa nord-orientale della Sicilia, sospesa tra le onde del mare e l'entroterra siciliano. Un luogo incantato dove panorama e architettura d'interni si sposano alla perfezione grazie all'estro creativo di Vmaison, un hub che raccoglie sotto un unico brand diversi aspetti legati al mondo dell'abitare e del lifestyle. Situato su una scogliera, questa dimora si apre all'ambiente circostante con grandi finestre a tutta parete. Vmaison nel dettaglio si è occupata di creare un concept che si traducesse in un restyling completo per tutti gli ambienti sia interni che esterni. Ciò che contraddistingue e rende unico il brand è infatti la sua progettualità a tutto tondo. Una volta definito il mood, Vmaison segue il cliente a 360 gradi, dall'architettura alla supervisione in cantiere, passando per il disegno, la produzione e l'allestimento di arredi su misura. Veronica Zimbaro, fondatrice e anima del progetto, si è occupata di tutti i dettagli del progetto, imbottiti, librerie, carte da parati, console, tavoli e tavolini, arredi outdoor, complementi per il bagno, voiserie, modanature, lampade, facendo poi confezionare il tutto da mani di esperti artigiani. Il risultato è un progetto unico, caratterizzato da ambienti caldi e atmosfere eclettiche, pervaso da quel mood pop decor che contraddistingue il brand. La palette scelta utilizza principalmente colori chiari, capaci di esaltare la luminosità degli ambienti e la sinuosità delle forme. Degli arredi disegnati per la villa, a caratterizzare gli ambienti, come una sorta di film rouge che connette le stanze al paesaggio mediterraneo, campiture di blu intenso. Colorano sedie, cuscini e accessori. Casa con vista è stato un progetto che mi ha vista coinvolta in prima persona e che mi ha dato l'occasione di ritornare nella mia amata terra di origine. Seguire i lavori a 360 gradi ci ha permesso di raggiungere un risultato del quale noi di Vmaison e il cliente siamo estremamente soddisfatti. Il protagonista indiscusso di ogni ambiente è il mare, elemento da valorizzare e panorama da abbracciare con scelte stilistiche che potessero interpretare al meglio la richiesta dei committenti senza dimenticare di dare la giusta importanza al contesto nel quale la villa sorge. Non si è trattato solo di creare un'armonia di nuance tra l'interno e l'esterno, ma anche e soprattutto di disegnare arredi su misura e selezionare materiali che si adattassero a un contesto così particolare. Veronica Zimbaro, owner e AMP, founder Vmaison, gli spazi interni. Il piano terra, racchiuso tra due ampie terrazze, si apre direttamente sul mare in un ampio soggiorno con diverse zone destinate al relax e alla convivialità. Protagonisti sono il grande tavolo rettangolare in legno naturale, perfetto per ospitare lunghi pranzi e cene in compagnia, la console. Buffet in rovere nella finitura in ottone spazzolato, le sedie in tessuto linone colore naturale. La zona living si completa inoltre di un salottino arredato con due eleganti poltrone girevoli sui toni del beige, tappeto kilimè, tavolino in vetro e nickel. Adiacente al salotto, in una zona separata, sorge invece lo studio, un piccolo angolo privato dove Vmaison ha inserito arredi di pregio, come la lampada in metallo nero e in ottone spazzolato o la poltroncina in tessuto panama naturale. Sempre al piano terra, sul lato est della casa sorge la cucina, interamente customizzata. Intorno all'ampia isola che si estende al centro della stanza, gli sgabelli barri in velluto ottavio sono impreziositi dal dettaglio delle gambe in legno nero e ottone spazzolato. Al piano superiore, per la zona notte Vmaison ha disegnato un sontuoso letto in tessuto linone colore naturale. Il look e amp, fil della stanza è reso ancora più accogliente e confortevole dalla scelta dell'utilizzo del velluto, nella panca imbottita e nei cuscini decorativi. Gli spazi esterni. Tutta la casa è pensata in funzione degli esterni, per le terrazze è stato fondamentale creare un progetto di styling che valorizzasse i toni e le sfumature del panorama circostante, andando così ad abbracciare senza mai sovrastare, il vero protagonista, il mare. Gli arredi outdoor, tavolini, divani e sedie, sono infatti realizzati in tic, materiale che si presta a non essere rovinato dal sole e dalla salsedine. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici commenta questo approfondimento.